Salve a tutti e ben ritrovati qui dalla redazione del podcast Novus del Res9. Oggi tratteremo un argomento un po' meno divertente rispetto a quelli che di solito trattiamo perché è un argomento molto più complesso e che definire anche abbastanza problematico o catastrofico in sé è dire eufemismi. Serve pertanto quindi un'importante e delicata analisi. Bisogna fare un'importante analisi per delineare tutte le verità e non limitarsi a dire semplicemente degli stereotipi. Quindi oggi andremo a parlare. Ciao Cristian, intanto ti saluto. Sì, ciao Francesco. Oggi abbiamo invitato qui insieme a noi Riccardo Leoni. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Come stai? Tutto bene, non mi lamento. Allora Riccardo era studente del Pertini, di cui è stato anche rappresentante di istituto, ora si è laureato a Scienze Politiche all'Università, alla Sapienza, giusto? Sì, giusto. Alla Sapienza e quindi oggi con lui parleremo appunto di geopolitica in relazione all'attuale conflitto Russia-Ucraina e Nato. Quindi non è una roba da poco, diciamo così, abbastanza complessa. No, decisamente no, effettivamente. Beh, innanzitutto, magari per i pochi che non sanno tutta la storia, riavvolgiamo un attimo il nastro, che inizia da parecchi mesi, da quando la Russia ha circondato militarmente l'Ucraina, i confini ucraini. Poi il 17 febbraio, mi sembra, Putin ha riconosciuto indipendenti le sedicenti repubbliche del Donbass, la repubblica di Donetsk e di Luhansk. Nei giorni successivi la Duma ha autorizzato Putin ad usare le armi all'estero e Vladimir Putin, il presidente della Russia, non se l'ha fatto ripetere due volte e ha dato via all'invasione e ai bombardamenti dell'Ucraina. Bene, io partirei subito dicendo che, tenuto conto che Putin ha in mano due territori nella Georgia, l'Ossetia del Sud e l'Apcasia, la Trasnistria, che è una regione della Moldavia, ed esercita anche una notevole influenza sulle ragioni dell'Asia meridionale. Putin, perché ha attaccato? Cosa vuole Putin? Allora, questa è un po' la domanda da un milione di dollari. In geopolitica esistono dei modi per comprendere quali sono i movimenti degli stati e di conseguenza dei loro leader. Sostanzialmente la Russia, negli ultimi trent'anni, ha assistito al crollo di quello che era il suo impero geopolitico. Nel 1991 la caduta, l'implosione dell'Unione Sovietica, ha fatto perdere un'enorme quantità di territori a controllo diretto di quella che era la Repubblica Sovietica Russa, che ovviamente all'interno del quadro federale che era l'Unione Sovietica controllava una porzione enorme di territorio. A seguito poi all'apertura della Russia ai mercati occidentali, c'è stata una fortissima crisi economica che ha potentemente debilitato il Paese. La presidenza di Boris Yeltsin, per tutta la seconda metà degli anni 90, ha vissuto questa crisi economica e anche sociale che ha fortemente debilitato le stesse basi della società russa. Col primo gennaio del 2000, il giorno in cui il presidente Putin diventa presidente della federazione russa, inizia un percorso di ricostruzione dell'influenza della Russia a livello mondiale, dopo il depotenziamento subito dai tempi dell'Unione Sovietica. Insomma, la guerra fredda era stata combattuta effettivamente, non con le armi, era stata combattuta con le informazioni, con le pressioni economiche, e ha avuto un vincitore, ovvero gli Stati Uniti, e ha avuto uno sconfitto. L'Unione Sovietica, adesso Russia. Lo sforzo del presidente Putin negli ultimi due decenni è stato quello di ricostruire, quindi, la potenza russa, l'influenza russa, prevalentemente sulla massa eurasiatica, ma anche quella africana. Oggi che cosa stiamo vedendo? Oggi stiamo vedendo il tentativo russo di riportare l'Ucraina all'interno della sfera di influenza di Mosca. Un'influenza che era stata persa otto anni fa, nel 2014, dove in realtà registriamo la prima vera causa di questo conflitto. Quindi, come spesso accade, le cose che avvengono a livello di dinamiche internazionali, non vengono causate da un singolo atto o da una singola posizione degli Stati, ma sono una miscellanea di fattori che si sviluppano nello spazio e nel tempo, di cui il conflitto ucraino è soltanto l'ennesimo esempio. Quindi, sappiamo che il presidente dell'Ucraina, Zelensky, ha, come dire, aspirazioni un po' occidentali, vorrebbe entrare a far parte dell'orbita Nato e avvicinarsi quindi sempre più all'Europa e all'Occidente, staccandosi sempre più dalla Russia. Ecco, quindi, secondo te, quanto questo può incidere? Perché Putin comunque l'avrà tenuto parecchio in considerazione, questo fattore qua della volontà dell'Ucraina di voler entrare a far parte dell'orbita Nato, nonostante poi comunque la Nato abbia respinto la sua candidatura? Allora, anche questa è una questione abbastanza complessa. Sicuramente è volontà ferma di Zelensky portare il suo paese nell'orbita occidentale, ma questo non è solo un desiderio del presidente Zelensky, è un desiderio della nazione ucraina. Questo almeno da una decina d'anni. Se torniamo indietro, infatti, agli eventi del 2014, che sono le cause profonde del conflitto di oggi, furono proprio le proteste di Euromaidan a dare inizio a tutto quello che abbiamo visto avvenire in Crimea nel febbraio del 2014. All'epoca l'Ucraina stava per sottoscrivere un accordo per iniziare il percorso di adesione nei confronti dell'Unione Europea. All'ultimo, il presidente Viktor Yanukovych, molto vicino agli ambienti del Cremlino, decise di stracciare questo accordo. Questo provocò l'ondata di proteste di piazza che portò alla destituzione di questo governo e all'allontanamento dall'orbita russa dell'intera Ucraina. È da allora che l'Ucraina, uscita dalla sfera di influenza russa, rappresenta una mina vagante per Mosca e quindi per Putin. Questo perché l'Ucraina rientra all'interno di quel perimetro di sicurezza strategico di cui la Russia ha bisogno per difendere i suoi confini. E non solo, rientra anche nei suoi vassalli storici che dai tempi dell'impero russo, quindi parliamo comunque del XVIII secolo addirittura, rappresentava un territorio a diretto controllo russo per la maggior parte del tempo o se non altro a controllo indiretto da parte della Russia. Prima che poi, come anche Putin ha rigolato in uno suo discorso, Lenin ha permesso che l'Ucraina si potesse un po' divincolare dalla sfera di influenza russa? Sì, la mossa di Lenin fu sicuramente quella a livello amministrativo di rivedere come era gestita quella che all'epoca era soltanto Russia, quindi istituì appunto gli oblast di Bielorussia e di Ucraina, salvo poi renderli proprio repubbliche sovietiche all'interno dell'Unione. Tuttavia questo è un caso perfetto di come la narrazione storica venga presa per rimodellare gli eventi, tant'è che l'Ucraina ha una sua storia che affonda le radici molto indietro nel passato, addirittura arriva ad essere progenitrice di quella che è la storia russa. D'altronde fu proprio nell'alto medioevo che si andò a creare quella formazione statale nota come il Rus di Kiev, da cui poi, secoli dopo, si distaccò il Principato di Novgorod, embrione di quello che oggi è lo Stato russo. Quindi in questo caso Putin non solo ha fatto un falso storico, raccontando l'Ucraina come un paese che non è mai esistito, ma ha cercato di modellare questa narrazione per meglio attaccarsi a quelli che hanno i suoi motivi, quindi riportare questo vecchio territorio sotto l'influenza di Mosca. Questo è un perfetto esempio di come i leader tendono a rimaneggiare la storia per portarla sotto di sé. E a proposito anche di rimaneggiare la storia, prima di passare nella parola a Cristian, così anche tu Cristian puoi parlare e esordire in questo podcast, Putin ha affermato di invadere l'Ucraina e dare quindi il via ai bombardamenti in Ucraina con una missione di denazificare il territorio ucraino. Che in parte un po' di realtà ci può essere, perché ad esempio ho letto che nel 2014 vari russofoni sono stati sterminati da milizie di estrema destra ucraine. Però comunque anche questo andrebbe un attimo ridimensionato tutto, perché c'è quell'evento lì, però poi è veramente una scusa, solo un pretesto. Allora, partiamo dal presupposto che sì, sicuramente esistono formazioni di estrema destra, anche vicine ai temi del fascismo e del nazismo all'interno dell'Ucraina, come però va detto esistono in tutti i paesi di questo mondo. La Russia stessa non è esente da formazioni di questo tipo, che tuttavia in Ucraina sono minoritarie, tant'è che abbiamo un presidente eletto con quasi il 70% dei consensi ebreo al governo del paese. Questo di per sé basterebbe a sfatare questa retorica della denazificazione, ma in realtà per denazificazione l'intento russo è un altro. Nessun ai vertici del Cremlino pensa che ci siano pericolosi revancisti del nazismo al comando di Kiev. Tuttavia la metafora del denazificare significa rimuovere l'attuale governo. Ed era questo l'obiettivo con cui è stata avviata il 24 febbraio questa operazione speciale, che nella mentalità dei vertici russi era concepita come un'operazione che dovesse in maniera lampo, rapidamente, rimuovere il governo di Kiev per poter nuovamente installare un governo amico, tant'è che il nostro già citato Viktor Yanukovych, proprio in quei giorni di febbraio, si trovava in Bielorussia, pronto a rientrare in Ucraina e, possiamo immaginare nei suoi desideri, tornare a prendere la guida dell'Ucraina. Quindi queste mosse, sostanzialmente, anche a livello propagandistico, servono sì a giustificare, a creare un caso sbelli, anche a poter giustificare al proprio popolo il perché di una determinata azione. Ma in realtà noi possiamo leggerle nell'ottica dei veri obiettivi. In questo caso, quando noi sentiamo parlare di denazificazione, si intende semplicemente sostituire un regime per metterne un altro. Cristian, vuoi anche tu entrare nel podcast? Ti lascio un po' di spazio. Allora, io, Riccardo, non sono molto esperto di geopolitica, politica o quant'altro, però comunque ci sono delle domande che anche io mi ero segnato. E comunque anche tu l'hai detto che in realtà questo conflitto ha radici tanto profonde e che quindi derivano anche dal 2014, per esempio, di molti motivi. Ecco. E allora perché questo attacco è avvenuto proprio adesso? E non prima o magari Putin ha aspettato un po' di più? Allora, anche qui non possiamo avere risposte certe sul perché sia avvenuto proprio ora. Però, con i mezzi dell'analisi, possiamo cercare di capirlo. Sostanzialmente dobbiamo cercare di vedere in prospettiva, di alzare il punto di osservazione e cercare di capire cosa è successo negli ultimi vent'anni all'Europa ma al mondo più in generale. La cosa importante da un punto di vista geopolitico è che abbiamo assistito al punto di massimo fulgore di un impero che è riuscito a porsi come superpotenza a livello mondiale incontrastata, ovvero gli Stati Uniti, che con la loro vittoria, per quanto di misura, nella guerra fredda, è riuscito ad imporsi come unico attore egemo a livello globale. Questa stagione è durata per circa dieci anni, gli anni novanta appunto che sono stati, anche da un punto di vista mediatico, se noi andiamo a vedere l'apice della potenza anche culturale americana. Abbiamo cominciato a vedere i film ambientati tutti quanti a Manhattan, gli alieni invadevano sempre New York, i supereroi salvavano sempre New York. E questo, da un punto di vista simbolico, è molto importante per capire come gli americani pensavano loro stessi. Anche per esempio, scusate, interrompo, anche Rocky Balboa, ora che ci penso, contro chi combatte? Esatto. Contro un russo, Ivan Drago. Contro Ivan Drago, campione sovietico. Quella era la narrativa di guerra fredda, che possiamo vedere anche in altri esempi della cultura pop. Pensiamo a Star Trek, dove i grandi nemici della federazione, federazione appunto, assetto federale come quello degli Stati Uniti, era l'impero Klingon, che guarda caso aveva dei lineamenti che ricordavano molto i siberiani. Guarda caso poi, alla caluta dell'Unione Sovietica, anche nella serie TV, i Klingon improvvisamente diventano alleati della federazione. Questo ci permette di capire come anche la grande cultura di massa sia intrisa di geopolitica, coscientemente o anche inconscientemente. Ma per tornare alla tua domanda, sostanzialmente abbiamo visto questo impero, geopoliticamente parlando, che ha allentato la sua presa sul resto del mondo. Questo perché si è sovraesteso, si è allargato così in fretta, da non riuscire più a reggere a un certo punto la pressione di dover essere il poliziotto del mondo in ogni singolo momento. Abbiamo visto anche attacchi, perché essere la prima potenza vuol dire anche essere il bersaglio di tutti quanti. L'11 settembre è un simbolo che ha fatto la storia e continuerà a essere ricordato proprio per questo motivo, perché è l'attacco all'attore egemone. E quindi questo impero ha cominciato lentamente a ritrarsi, a farsi meno presente dovunque. Inoltre abbiamo avuto anche un momento di grande frattura all'interno del fronte occidentale, quale non lo si era mai visto, la presidenza di Donald Trump. Dal 2016 al 2020 al mondo è sembrato che Europa e Stati Uniti fossero molto vicini a prendere strade differenti. Questa rottura in realtà si è perpetuata anche fino agli ultimi mesi del 2021. Abbiamo visto scambi non proprio amichevoli tra gli europei e gli americani, abbiamo visto gli eventi in Afghanistan, il ritiro dall'Afghanistan non è stato concordato prima con gli alleati europei che si sono trovati all'improvviso a dover smobilitare migliaia di uomini e di mezzi senza l'aiuto dell'alleato americano. Eppure loro erano andati in Afghanistan proprio su richiesta dell'alleato americano. Abbiamo visto poi lo scandalo AUKUS sulla vendita di sottomarine all'Australia, che accettando un'altra offerta ha stracciato il contratto che era stato prima firmato con la Francia. Tutti questi segnali lasciavano intendere a una futura frattura dei rapporti euro-atlantici. In più aggiungiamoci che l'Europa rimane un attore disomogeneo, non sempre unito, non sempre capace di fare fronte comune. Quindi tutti questi fattori allineati insieme, uniti alla possibilità che l'Ucraina entrasse veramente nella NATO oppure che ricevesse aiuti di carattere militare addestrativo nei suoi confini, così come la NATO aveva proclamato a giugno nel suo summit annuale, alla presenza di tutti i capi di Stato, bene, tutto questo potrebbe aver fatto scattare la necessità, nella mente del Presidente Putin e dei suoi consiglieri, che questo era non solo l'unico momento possibile, prima che la NATO fosse troppo presente in Ucraina, ma anche che fosse il momento giusto per trovare un fronte occidentale non omogeneo. Questo perché? Perché i due attori dell'Occidente, quindi gli Stati europei e gli Stati uniti, hanno esigenze differenti in questo settore. Gli Stati europei sono potentemente scoperti da un punto di vista energetico nei confronti della Russia, cosa che non sono gli Stati uniti. Quindi forse il pensiero del Presidente Putin è stato che nessun europeo avrebbe voluto morire per Kiev e di conseguenza i soli Stati uniti non se la sarebbero sentita di imbarcarsi nella difesa di questo paese. Quello che invece abbiamo visto, almeno per ora, è che il fronte occidentale si è ricompattato davanti a questa minaccia e questo ce la dice lunga su quello che è stato probabilmente un grosso errore di calcolo da parte del Cremlino. L'Europa, sappiamo che molti Stati europei non erano e probabilmente non sono d'accordo con un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Quindi secondo te, quante sono state potenti, importanti le pressioni americane? Perché alla fine probabilmente quelle sono le pressioni di Biden nella Casa Bianca che su Zelensky, proprio nell'entrare nella NATO. Allora, le pressioni ci sono state sicuramente. Quello che non è chiaro è se fossero pressioni mirate a fare entrare direttamente l'Ucraina nella NATO. Ricordiamo che fino all'invasione, ma tutt'oggi, non è mai stato all'ordine del giorno dell'Alleanza Atlantica di invitare l'Ucraina. Si parlava di partnership, si parlava di addestrare le forze ucraine e si parlava anche di installazioni militari della NATO in Ucraina. Questa, semmai, era la cosa più pressante, la cosa a cui gli Stati Uniti erano più interessati. D'altra parte, invece, abbiamo un'alleanza che è fatta dai suoi membri, che deve trovare tutti i membri concordi per accettarne uno nuovo. E in questo, appunto, si andavano ad infilare i dubbi, soprattutto degli alleati europei, in quanto a una partecipazione dell'Ucraina, proprio per evitare che i toni con Mosca potessero scaldarsi, cosa che effettivamente sta succedendo. Per capire bene questo dobbiamo capire qual è la gran strategia americana, qual è il grande obiettivo degli americani, e questo è ovvio perché in geopolitica non ci facciamo illusioni, mai. E quindi sappiamo che quando leggiamo NATO noi dobbiamo leggere Stati Uniti, in quanto alleato principale e vero garante della difesa di tutti i membri. Dobbiamo capire qual è l'obiettivo degli Stati Uniti. Beh, negli ultimi 10-15 anni l'obiettivo degli Stati Uniti è stato concentrarsi sul loro diretto rivale, a livello globale, non a livello europeo, che è la Repubblica Popolare Cinese, che è l'unico Stato che ad oggi ha veramente le carte in regola per poter un domani, non oggi, assolutamente non oggi, ma un domani sfidare quella che è l'egemonia americana. Quindi l'obiettivo degli Stati Uniti sostanzialmente negli ultimi anni qual è stato? Dobbiamo concentrarsi sulla Cina e lasciare che i loro alleati europei si occupassero invece di tenere buona la Russia, non di andarci a fare la guerra. Questo perché c'è alcun interesse strategico dietro a ciò, perché la Russia non è più l'impero di una volta. Non la vede più come una grande minaccia? No, assolutamente no. Per questo dicevo, la guerra fredda è stata effettivamente vinta. Perché ad oggi la Russia, da un punto di vista globale, quindi non riferito al solo contesto europeo, non è una minaccia all'egemonia americana, cosa che invece un domani potrebbe essere la Cina. Quindi l'idea era questa, gli americani si sarebbero occupati del Pacifico e gli europei avrebbero tenuta ferma la Russia da altre azioni simili a quelle che abbiamo visto appunto in Georgia e in Crimea nel 2014. Infatti anche per quello poi il progetto AUKUS di cui parlavi prima tra Regno Unito, Australia e America era mirato proprio a contenere l'espansione nel Pacifico della stessa Cina? Precisamente, se noi osserviamo il teatro del Pacifico, che oggi anzi assorge a una nuova definizione che in geopolitica ma anche in geografia non si era mai vista, ovvero quello di Indo-Pacifico, capiamo dove sono dirette le attenzioni americane. Le attenzioni americane sono dirette verso questo scenario che si pone tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico per contenere da un punto di vista marittimo la Repubblica Popolare Cinese che oggi è in ascesa e che essendo in ascesa può rappresentare una minaccia. Il tentativo americano quindi qual è adesso? Quello di replicare la Nato sostanzialmente, creare una nuova rete di alleanze situata nel Pacifico per poter fare quello che fu fatto con l'Unione Sovietica, ovvero contenerla, contenerla fino a cercare di causarne possibilmente un'implosione interna. E lo vediamo, se noi andiamo ad osservare le coste della Cina, sono costellate, scusate la ripetizione, proprio di alleati degli Stati Uniti, dal Giappone alla Corea del Sud, alle Filippine, all'Indonesia, al Vietnam, passando anche per l'isola di Taiwan, che riveste un ruolo sempre più importante a livello globale. Assolutamente. E quindi secondo te l'Europa, che potremmo definirla in un certo senso un burattino dell'America che fa quello che all'America fa comodo, quello che all'America serve, cioè l'America si occupa del contenimento cinese, e l'Europa quindi deve tenere a bada più la Russia e quelle zone lì. E all'Europa perché secondo te quindi va bene questo ruolo? Perché si sente che non è abbastanza in grado di reggersi da sola, abbastanza spaventata, quindi non abbastanza lineata, che ubbidisce, tra virgolette, ovviamente, agli ordini americani? Beh, sostanzialmente sì. Intanto dobbiamo capire da un punto di vista geopolitico che cos'è l'Europa. Che è molte cose, da un punto di vista geopolitico. In primis, come dicevi tu, è una provincia dell'impero americano. Dal momento che oggi, tutt'oggi, l'Europa vede negli Stati Uniti il loro punto d'appoggio principale, quindi alle volte dovremmo anche interrogarci, chiamarci alleati o vassalli piuttosto. Sono molti i motivi che portano l'Europa a non avere una sua posizione autonoma, la famosa autonomia strategica di cui si sente tanto parlare, che è tanto cara al presidente francese Macron. Sostanzialmente, ricordiamoci sempre che l'Europa non è una realtà politica. È una realtà, ad oggi, economica, commerciale, agricola, su molti campi, ma ad oggi non è un soggetto internazionale sovrano. Rimane un'unione formata da 27 Stati membri, ora che il Regno Unito ha definitivamente lasciato l'unione, e che quindi non è dotata di un suo ministro degli esteri, non è dotata di una sua forza di difesa, non è dotata di un esercito europeo, e ricordiamo quanto le forze armate siano necessarie per calibrare la forza di un soggetto in politica estera. Non che debbano essere utilizzate, ma il solo fatto che ci siano e che ci sia la deterrenza garantita dalla possibilità di impiegarle rappresenta potenziale diplomatico. Gli Stati Uniti esercitano la loro influenza sul mondo, forti della loro economia, ma anche della loro forza armata. Quindi, quando parliamo di Europa, dobbiamo capire in che momento parliamo di Unione Europea, che si muove in maniera unica, e in quale misura ci occupiamo invece di parlare dei singoli Stati, Stati che ad oggi mantengono interessi differenti. Non abbiamo un unico interesse europeo riconosciuto. E spesso e volentieri, anzi, e lo abbiamo visto, lo vediamo in Libia, come in tanti altri scenari, gli Stati europei tendono anche a competere fra di loro. E quindi per questo, quando in una casa non siamo tutti quanti d'accordo, come riusciremo mai a decidere di fare la ristrutturazione della facciata? Sostanzialmente è quello il problema. E anche lì che quindi Putin certamente voleva andare a infierire, a intaccare in qualche modo. Non solo. Putin ha infierito e ha attaccato in questi ultimi anni. E questa non è propaganda, è qualcosa di provato. Si sente tanto parlare del fatto che la Russia è stata provocata per molto tempo. Questo indubbiamente. Infatti, proprio qui ti volevo portare, appena finisci il discorso. No, no, finisci che era interessante. Sì, dico, le provocazioni sono state da entrambi i lati, ma in particolare anche dal lato russo abbiamo avuto tante, tante provocazioni e anche attacchi. Quello che è stata definita negli ultimi anni la guerra ibrida. Quindi una guerra che non è fatta di soldati che sparano, ma è fatta di condizionamento delle opinioni pubbliche. Tentativo di destabilizzare gli ordini democratici, di diminuire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. Tant'è che abbiamo visto negli ultimi anni finanziamenti a pioggia da parte della Russia per vari partiti di estrema destra all'interno degli stati europei che predicavano apertamente il fatto che l'Europa non dovesse unirsi, del fatto che gli stati dovevano rimanere sovrani, sostanzialmente che l'Europa dovesse continuare ad essere disunita. E questo, per forza di cose, avrebbe fatto molto comoda una Russia che in fieri di iniziare una nuova stagione di conquiste sul continente si sarebbe trovata davanti non un fronte compatto di 27 paesi pronti a impedirglielo, ma un marasma di paesi disuniti, ognuno con i suoi interessi. Anche alcuni pronti a schierarsi apertamente con lui, cosa che abbiamo quasi visto ultimamente. Sono diversi gli stati europei che hanno strizzato l'occhio a Putin e che continuano a farlo anche in queste settimane. Ci basti pensare al caso ungherese. Appunto, hai parlato di provocazioni, quindi c'era proprio una domanda a tal proposito. Sappiamo che dopo la caduta dell'Unione Sovietica la Nato si è allargata ad est, ad est Europa, sempre di più dopo il 91. E qui adesso ti vorrei andare a leggere appunto un passo tratto dal volume di Limes, della rivista Giapolitica, di George Kennan, patriarca del contenimento russo, che affida così al suo diario il 31 luglio del 97, la sua costernazione per la scelta dell'amministrazione americana Clinton di aggregare Polonia, Ungheria e Repubblica Echichia alla Nato. Mi si spezza il cuore per quello che sta accadendo. Non riesco a vedervi altro che una nuova guerra fredda, probabilmente destina da trasformarsi in calda e la fine dello sforzo di costruire una democrazia funzionante in Russia. Vedo anche una totale, tragica e assolutamente non necessaria fine di un'accettabile relazione fra quel paese e il resto dell'Europa. Mi aspetterei una forte militarizzazione russa della loro vita politica, accompagnata dalla roboante esagerazione del pericolo e dalla ricaduta nell'antica venerabile visione della Russia qual'oggetto innocente delle brame aggressive di un mondo malvagio ed eredico. Ecco, probabilmente tutto il percorso che parte dalla disintegrazione dell'URSS e arriva fino ai giorni attuali, giorni in cui l'Ucraina è invasa e bombardata, forse è tutto riassunto in queste poche righe di George Kennan. Sì, ovviamente non cerco di mettermi in competizione con Kennan, con il quale perderei molto male. Ricordiamolo, Kennan è stata una figura fondamentale della geopolitica moderna e anche della politica americana. Kennan è colui che nel 1947 sostanzialmente teorizzò il contenimento, la dottrina del containment ai danni dell'Unione Sovietica, quindi quella strategia di bloccare, tenere sotto pressione... Per farlo implodere. Per farlo implodere dall'interno, cosa che appunto alla fine poi si realizzò e questo tramite vari mezzi economici, militari, culturali, di soft power appunto, come dicevo. Quindi sì, sicuramente quello di cui parlavamo prima, quindi l'espansione dell'impero americano non è stata preva di errori. Gli errori ci sono stati in moltissimi frangenti, lo abbiamo detto più volte nei talk show, nelle riviste, nei convegni, tutta la politica nei confronti del Medio Oriente, della guerra al terrore, che in realtà non ha fatto altro che causare un incremento dei fenomeni di radicalizzazione nel mondo islamico. L'espansione ad est della Nato può essere in qualche modo accostata, può essere considerata uno di questi errori, sempre tenendo conto però di una cosa, che per entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica, questi paesi con un Parlamento liberamente eletto hanno votato per entrare nell'Alleanza Atlantica. Quindi verrebbe anche da chiedersi, se questi paesi hanno così fortemente voluto entrare in un'Alleanza che gli garantiva la protezione da parte del più potente Stato del mondo, verrebbe da chiedersi perché si sentivano così in pericolo? Minacciati da... Esatto, perché? E quindi qui rivediamo che le provocazioni possono venire effettivamente da entrambe le parti. Ma questo perché, e questi giorni ce lo stanno confermando amaramente purtroppo, nella lotta per l'egemonia globale non esiste sempre il lato giusto e il lato sbagliato, esistono attori che competono fra di loro e che competono per avere l'egemonia. E che succede quando la competizione si incastra? Quando due interessi diventano contrapposti? Succede quello che vediamo, succedono le guerre. Si rompono gli equilibri. Si rompono gli equilibri e l'unico mezzo che rimane è giungere alla guerra. È così che scoppiano le guerre, per interessi confliggenti. Non c'è mai nessuno che dal buio di una stanza pensa adesso organizzeremo questa grande guerra che farà... No, assolutamente no. Lo vediamo nella storia, lo vediamo con la prima e con la seconda guerra mondiale. Le guerre scoppiano nel momento in cui abbiamo due interessi contrapposti che non sono più conciliabili né con la diplomazia né con altri mezzi. Grazie. 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 Grazie.